Le basi UFO in Italia. Sabato 22 gennaio 2011. Tutti avrete sentito parlare di basi sotterranee e aliene sulla Terra, veri e propri bunker nascosti dai governi per nascondere la presenza di alieni sulla Terra e i complotti tra i governi e questi nostri vicini di casa. La più famosa, logicamente è l'Area 51 nel deserto del Nevada in cui, i governi, affermano di effettuare esperimenti militari. Altre invece sono nella foresta amazzonica, nell'Himalaya, in Kanda, eccetera. Anche in Italia non mancano queste basi nascoste ed è queste che vi vogliamo mostrare. Possiamo trovare basi in superficie, sottoterra e anche sottomarine. Le basi sono state individuate grazie a numerosi avvistamenti avvenuti in queste zone negli ultimi anni. Ma andiamo a vedere dove sono. Un mare adriatico. Due a est della Sardegna e della Corsica. Tre mare mediterraneo, a ovest della Sicilia. Quattro nord-est di Malta. Cinque, Pordenone. Sei, Piemonte. Sette, Piemonte. Otto, Piemonte. Nove, Parma. L'area 51 italiana è nella zona pedemontana-pordenonese, vicino alla base militare Stati Uniti di Aviano. Qui ci sarebbero due basi UFO ospitanti alieni grigi e le loro astronavi. La notizia è stata data dal professor Antonio Chiumiento, che avrebbe indagato alcuni anni fa ed avrebbe poi pubblicato le foto della presunta base nei suoi libri. UFO basi aliene vicino a Viano? Un esperto annuncia documentazione fotografica shock. A tenere i contatti con gli alieni un giovane del Pordenonese, oggi trentenne. Il professor Antonio Chiumiento, ex presidente del Centro Italiano Studi Ufologici, annuncia immagini uniche al mondo scattate all'interno della loro astronave, ritraggono extraterrestri della razza grigia. Ci sarebbero due basi create da extraterrestri nel sottosuolo della fascia pedemontana-pordenonese, non distanti dalla base USA di Aviano, e ci sarebbero anche foto con tanto di certificato per provarlo. A sostenerlo il professor Antonio Chiumiento, già vicepresidente del Centro Ufologico Nazionale ed ex presidente del Centro Italiano Studi Ufologici, che si prepara a pubblicare le immagini una documentazione fotografica definita senza mezzi termini unica al mondo. Sono fotografie spiega che ritraggono esseri extraterrestri, appartenenti alla razza dei cosiddetti grigi, e che sono state scattate all'interno di una loro astronave. Altre, poi, ritraggono astronavi, appartenenti a diverse razze, scattate nello spazio dall'interno di un mezzo alieno. Fra queste ultime, viene una in cui si vedono la Luna, la Terra e un'astronave extraterrestre. Chiumiento, docente di matematica, raccoglie da oltre 25 anni testimonianze e campioni degli incontri ravvicinati, alcuni dei quali sottolinea sono stati analizzati dal Dipartimento di Chimica dell'Università di Pisa e da un esperto del Centro Ricerche Aerospaziali di Pomigliano d'Arco Napoli. Le ultime indagini di verifica sulla presunta scoperta delle due basi aliene hanno richiesto 6-7 anni di lavoro. Le ho ottenute segrete finora afferma l'esperto perché ho voluto compiere verifichi minuziose per esempio, l'autenticazione di numerosi negativi fatta da Uliano Monti, anche gli di Pordenone, specializzato in ingegneria fotografica. Secondo Chiumiento, è stato così possibile stabilire che le foto sono degli originali. A scattarle è stato il testimone principale, un giovane operaio, oggi trentenne, che risiede in provincia di Pordenone, e che intende mantenere l'anonimato. Questi ha svolto, in sostanza, la funzione di tramite tra Chiumiento e gli alieni, in particolare quelli appartenenti alla razza dei grigi. Stando alla letteratura ufologica, i grigi dall'inglese Grice, sono una delle razze extraterrestri, che più hanno visitato la Terra piccolini, con la testa grossa e gli occhi molto grossi e oblunghi, vengono indicati come autori di rapimenti di umani, che sostengono in seguito di essere stati studiati come animali da laboratorio. Gli extraterrestri sostiene Chiumiento hanno consentito al giovane di visitare molte volte le loro basi sotterranee e pordenonesi e gli hanno permesso di documentare fotograficamente, dall'interno di un loro mezzo, addirittura il rapimento di un uomo effettuato da un UFO di forma triangolare. Siamo tutti in attesa di vedere finalmente qualche prova in più. Speriamo presto.